Il mio nome è il dottor Luigi Stefanielli e vivo e lavoro in Roma, la capitale dell'Italia bella. Nambident ha diventato una routine nella mia pratica da settembre 2015. Voglio partire un segreto con voi. Posso vedere real-time cosa faccio con i miei operativi, per ottenere la migliore accuracità possibile che le mie mani possono ottenere. Quando ho iniziato, mi ricordo che ero introdotto sulle tecnologie che potrebbe lavorare come un GPS con la guidata di auto, che mi guida con i miei operativi con immagini real-time. Prima, le operatività di prostatico e l'accurazione erano davvero un obiettivo del mio. I guida studiati erano la mia soluzione, ma ho esperienziato le risultate comuni che tutti gli esperienzi. Nambident era un amico all'inizio. potrei ottenere i miei obiettivi senza i problemi di ordinare, aspettare e riuscire un template sorgico, con l'opportunità di fare più e meno. Quando ho iniziato a usare Nambident, un mondo di nuove opportunità è aperto, imparato da tecnologie che mi permette di usare tutti gli strumenti sorgici che ho usato. con triangolo, piezo, sonico, strumenti, turbin. Poi poi inizio ad applicare questa tecnologie a imparati pteligoidi che mi hanno usato per scorrere. Infatti, ho concevuto quello che chiamato da Vinci Bridge, una prostestesia sociale anchora su due imparati pteligoidi e strati, una migliore alternativa per il protocollo all on 4. La mia attività sorgica ha aumentato incrementamente e sono contento di vedere come i miei pazienti hanno capito il mio esforzo per migliorare la qualità della vita limitando i costi biologici e finanziari. Io vorrei dire che se sei come me, che è inutile per proporzare la migliore tecnologie ai miei pazienti, per ottenere risultati risultati di alta qualità, beh, sei benvenuti e credo che saranno Nambident. Voglio lasciarvi con un messaggio generale, lavorate 12 ore per giorno per 7 giorni per settimana. Il tempo è pronto per cominciare il Git con una nuova tecnologie che aggiungerà valore al vostro lavoro e ti intercederà. Inutile Nambident!